E' proprio quello che volevo chiedere a voi, la difficoltà di far passare questa idea a Bruxelles, di poter uscire dall'euro ordinatamente. Qualora non fosse possibile, si può pensare a un discorso di una moneta complementare? Chi risponde sulla moneta complementare? Allora, ne ho studiate molte di monete complementari e ne ho anche proposta una, nello specifico il bot. Molto banalmente, se noi, come dire, i famosi crediti delle imprese, li dessimo in bot, ma soprattutto perché finché li danno lo stato è contento, ti pago in bot così poi dopo tanti saluti, ma se le accettassi lo stato in pagamento delle tasse, a questo punto noi potremmo farci girare dei bot magari di piccolo taglio, uno da 100 colorato in verde, uno da 50 colorato in arancione, e così di questo tipo, così ci abituiamo a avere in mano qualche cosa perché tante dei terrori che noi abbiamo è, oddio, non c'ho più i soldi, signori, non c'ho più i soldi, se tutti, chiunque abbia una carta di credito va in Svizzera a fare la spesa e non se ne è neanche accorto che ha pagato in franchi piuttosto che un'altra moneta, non se ne accorge. Però se per abituarci al contante si potrebbe fare la moneta parallela, ma è solo una questione d'abitudine, la moneta parallela non serve a nulla dal mio punto di vista se non ha un cambio differente rispetto alle altre valute. Cioè noi abbiamo bisogno di ricalibrare il nostro orologio che è rimasto indietro di mezzo giro, noi dobbiamo far sì che il cambio flessibile ci continui a dare, invece ci assegni un valore della moneta giusto per la nostra economia. Altrimenti se io faccio una moneta parallela, ma che è parallela e basta, non faccio nulla. Sì, ho capito, la stappiamo, la stappiamo, no no sono d'accordo, la moneta parallela stappiamo quanto vogliamo, ma se non è convertibile a uno a uno con l'attuale moneta nostra corrente non serve a nulla, perché a quel punto poi diventano i punti dell'esse lunga. Dopodiché invece deve avere un rapporto di cambio con le monete estere, quindi ci vuole una moneta nazionale che abbia un cambio differente con la moneta estera, altrimenti non conta niente. Il nostro debito è messo in euro, non posso, se faccio passare una moneta parallela è sempre messo in euro, io devo cambiare la mia moneta, devo cambiare i contratti, perché sennò non funziona.